La star turca festeggia il suo compleanno con una cerchia ristretta di persone. Al suo fianco oggi c'è Maria, compleanno movimentato per Kenya Man che ha spento 32 candeline lo scorso 8 novembre. La giornata l'ha trascorsa al Policlinico Umberto I di Roma, per cui ha inaugurato una raccolta fondi per l'associazione Kenya Man for Children con lo scopo di acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli pazienti. La star turca si è presentato nel reparto di neonatologia e pediatria portando regali. Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto, ha spiegato. Conclusa la visita alla struttura sanitaria si è diretto a Cinecittà World. Anche in questo caso il ricavato dei biglietti venduti è andato in beneficenza. Per quel che invece riguarda la festa privata, il divo si è concesso un party in serata, molto sobrio. Presso la sua dimora romana, come racconta Chi Magazine, si è recato un piccolo gruppetto di persone, il suo inseparabile amico Roberto Macellari e alcuni suoi collaboratori. Una festicciola tranquilla, nessun evento mastodontico. Gli invitati, come mostrato dagli scatti, rubati, dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono arrivati a casa Yaman portando con sé la torta e qualche dono per il festeggiato. Sempre Chi Magazine offre un'altra chicca circa il protagonista di Daydreamer Leali del Sogno. Quale? Quella riguardante i suoi affari di cuore. Dopo la fine della chiacchieratissima love story con Diletta Leotta, la relazione è naufragata ormai da mesi, tra mille polemiche, si sussurra che l'attore turco abbia ritrovato ristoro in amore tra le braccia di Maria Giovanna Adamo, modella 25enne originaria di Crotone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.